I medici di famiglia stanno pian piano metabolizzando la novità rappresentata dalla ricetta elettronica. Secondo l'assessorato regionale alla salute, in Sicilia, nelle prime due settimane dall'entrata in vigore, sono state prescritte infatti quasi 100.000 ricette dematerializzate da parte dei medici di famiglia e dei pediatri. Oltre 800 le farmacie coinvolte con un risparmio immediato stimato in circa 2 milioni di euro. Messina è peraltro la seconda provincia più attiva come percentuale di medici che hanno prescritto in modalità dematerializzata dopo Caltanissetta. 116 medici che si sono adeguati al nuovo sistema, una percentuale che per la verità non appare esaltante dal momento che rappresentano appena il 18% del totale. Quattro medici su cinque devono quindi ancora adeguarsi alle nuove normative che impongono la tradizionale prescrizione soltanto in formato elettronico e non più cartaceo. In particolare nella provincia di Messina sono state oltre 15.000 le ricette emesse, 134 le farmacie coinvolte. Tra i benefici del nuovo sistema, garantiscono il Ministero e i promotori, l'acquisizione di tutti i dati della ricetta e la sicurezza di non commettere errori nella consegna del farmaco, in quanto in caso di consegna di un farmaco diverso o non equivalente scatterà l'immediata segnalazione per il farmacista. L'utente, il servizio sanitario regionale risparmierà, come detto, 2 milioni di euro per la stampa e la consegna dei ricettari rossi, otterrà il monitoraggio della spesa e delle prescrizioni in tempo reale e dei percorsi terapeutici. Soddisfazione è stata espressa dall'assessore regionale della salute Lucia Borsellino, che ha lodato anche lo spirito di collaborazione di medici, farmacisti, utenti, Federpharma e sindacati medici, tra cui la FIMG.